un po di nozione se stai parliamo ovviamente di rosh Hashanah come ogni anno ripetiamo la cosa che rosh Hashanah è su due giorni molto importanti come sempre diciamo è il giorno che Hashanah giudica tutti noi però questa cosa del giudizio da una parte si deve essere che tutti ci sentiamo più seri e stiamo attenti a quello che diciamo a non perdere tempo specialmente però è anche un giorno è un iom tov un giorno di felicità un giorno di gioia è il primo giorno dell'anno tant'è che non mangiamo per esempio cose aspre non si mette per esempio l'aceto e limone insalata perché è aspro piuttosto ne vogliamo mangiare cose dolci che addolciscano l'anno non è che è vietato però essendo l'inizio vogliamo cominciare tutto a 360 gradi anche quello che mangiamo e beviamo che sia di buon auspicio infatti la prima cosa che mangiamo è la mela in tinta nel miele e facciamo tutte le varie poi seconda a seconda delle varie usanze no mangiamo il datter mangiamo il melograno tutte quelle cose sono cose dolce sono tutte anche cose simboli di abbondanza di crescita di benedizione e anche il nostro comportamento a Rosh Hashanah non è che uno dice mangi un chilo di miele anche il comportamento il pensiero deve essere consone al giorno di Rosh Hashanah non bisogna litigare non bisogna avere rabbia non bisogna avere discussioni molte volte è facile no avere discussioni ecco a Rosh Hashanah bisogna evitare a Rosh Hashanah bisogna il più possibile essere gioiosi tranquilli sereni affinché questa luce di Rosh Hashanah possa darci positività a tutto l'anno per esempio no quando noi la mattina facciamo la preghiera la mattina la preghiera che noi facciamo la mattina ha un'influenza per tutto l'arco della giornata perché per esempio perché i tefilini noi uomini li mettiamo la mattina non c'è scritto nella Torah di metterli proprio la mattina tant'è che se uno lo mette il pomeriggio per esempio la mitzvah l'ha fatta lo stesso però i maestri hanno stabilito che i tefilini li mettiamo la mattina a priori no li mettiamo la mattina insieme alla prima preghiera perché la mattina è l'inizio del giorno perciò come comincia la giornata questo è lo specchio di come sarà indirizzata tutto il resto della giornata perciò i maestri hanno detto i tefilini li abbiniamo alla preghiera della mattina perché è l'inizio perché tefilini cosa sono mettere la parola della torà perché nel braccio e nella testa i tefilini c'è i rotoli della torà noi mettiamo i rotoli della torà sul cuore affinché i tefilini possano influenzare in un modo positivo i nostri sentimenti mettiamo i tefilini sulla testa per influenzare in modo positivo i nostri pensieri le nostre azioni e tutto quello che facciamo perché la mattina perché è l'inizio della giornata perciò come comincia la giornata così va avanti anche il resto del giorno come una persona prega di shabbat per esempio e come si comporta come vive il giorno di shabbat avrà una benedizione per tutta la settimana perché nella torà la settimana comincia non da domenica ma da shabbat cioè shabbat è la benedizione per tutta la settimana entrante perciò la mattina è lo specchio della settimana entrante rosh hodesh per esempio il capo del mese anche lì come una persona prega e si comporta a rosh hodesh ha una benedizione per tutto il mese entrante in base a questo vediamo che quando arriva rosh hashanah il capo l'inizio dell'anno nuovo così come noi ci comportiamo preghiamo il giorno di rosh hashanah ha un'influenza per tutto l'anno entrante per questo motivo rosh hashanah non è un giorno come tutti gli altri shabbat gli altri shabbat si può stare a tavola a chiacchierare certo non è evitato chiacchierare ma a rosh hashanah cerchiamo di usufruire tutto il tempo possibile per leggere i salmi di davidamelech anche chi non sa leggere in ebraico li può leggere in italiano o perlomeno qualche libro di torà italiano quello che sia ma adoperare questi giorni che i riflettori sono su di noi di comportarci in un modo console al giudizio come dicevamo l'anno settimana scorsa mi sembra quello dicevo che se essendo questo il giorno del giudizio il giorno che siamo come se fossimo al tribunale nessuno gli passa mai in mente quando ha un qualcosa al tribunale di andare a giocare a pallone o andare a fargli affari suoi quando in realtà c'è il tuo avvocato lì al tribunale che sta cercando di difenderti il minimo che tu possa fare è dimostrare al giudice che sei presente e si spera che tu sei un po vuoi dimostrare al giudice che anche se hai sbagliato qualcosa intendi rettificare la tua condotta in modo che il giudice ti dia un giudizio positivo mi sembra una cosa normale no nessuno prende e dice al giudice senti guarda devo un appuntamento con i miei amici e va dal bar è fuori l'uomo perciò idem di casi il giorno di rosh Hashanah che appunto ognuno di noi viene va davanti ad hashem e siamo giudicati da dio e lui ci scrive l'anno entrante ovviamente stiamo più attenti a come ci comportiamo c'è una famosa storia conoscete adesso lui è mancato rav twersky è un grande psicologo un rabbino un grande psicologo lui racconta quando era ragazzino diciamo suo papà era il rabbino della città o delle della comunità e quel rosh Hashanah avevano un ospite in casa quest'ospite che era anche lui un rabbino dopo pranzo dice a twersky al a questo lo conoscete è un grande psicologo era mancato qualche anno fa dice dimmi ragazzino ragazzo sai giocare a scacchi e lui racconta questa storia io quando ero ragazzino ero un campione scatti li battevo tutti a lui fa certo che so giocare va dai ti sfido ok cominciano a giocare a scacchi diverse partite a un certo punto dopo un po il pomeriggio più tardi arriva il segretario del papà del rabbino e dice guarda che papà ti vuole da lui in ufficio allora il ragazzo l'allora giovanotto rabbino twersky dice oi 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 cosa ho fatto adesso vediamo qualcosa da sgridarmi entra nell'ufficio di papà e papà dice beh ho sentito che oggi hai giocato a scacchi e il ragazzo fa beh sì mi ha sfidato non potevo non potevo non accettare era ragazzino 13 14 anni quello che era parentesi giocare a scacchi non c'è niente di vietato tecnicamente non c'è scritto nella ma come dicevamo prima non è forse esattamente la cosa più indicata da fare il giorno del giudizio cioè i riflettori sono solo di te dio sta decidendo decidendo quello che hai fatto e quello che sarà di te eccetera tu stai a giocare a scacchi anziché a pregare e a pensare meditare davide cosa dicono che allora quando il papà gli ha chiesto semplicemente ma è giocato a scacchi e allora già lì lui ha capito che ha fatto un qualcosa che non era esattamente piaciuta al suo papà però la cosa interessante che lui racconta dice guardate la psicologia di mio papà lui non mi ha sgridato non mi ha ripreso mi ha fatto una domanda e io dalla sua domanda e dal tono come mi ha chiesto ho capito di avere sbagliato papà non ha aggiunto niente ha soltanto detto ha giocato a scacchi e io ho capito che ho sbagliato perciò qua insegnamento nell'insegnamento è quando vogliamo dire qualcosa a qualcuno chi ha ancora figli piccoli figli giovani nipoti quello che sia ricordiamoci non sempre per forza dobbiamo dire al bambino che hai sbagliato non va bene molte volte anche un piccolo cenno o accenno a quella cosa lì già il bambino capisce perché il bambino sa le cose sbagliate che fa ma a dire la verità gli ha fatto anche un'altra domanda aspetta arrivo 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 allora cosa dicendo lui sta insegnando la parte psicologica che è un bambino a chiunque tu vuoi insegnare qualcosa non devi fare ore e ore discorsi perché i bambini ore discorsi entra anzi non entra neanche per uscire e i bambini vogliono una frase netta punto stop perché si comincia a fare troppi discorsi filosofici il bambino lo perde allora lui li ha capito poi il papà dice vabbè dimmi ma ma almeno l'hai battuto e lì fa è certo che l'ho battuto fa che dai vai vai va bene era finita con uno scherzo con una battuta almeno l'hai battuto va bene così perciò qua abbiamo due insegnamenti uno di come approcciare le persone ma uno che è il giorno di Rosh Hashanah anche se ripeto tecnicamente non è un peccato giocare a scacchi ma non è una cosa esattamente l'atmosfera del giorno di Rosh Hashanah perciò più possibile dobbiamo cercare di pregare avere buoni propositi buoni pensieri essere positivi e pregare il più possibile adesso entriamo in un insegnamento della preghiera essendo il Rosh Hashanah il giorno che di base dobbiamo pregare nella Haftarah vuol dire quando noi finiamo di leggere la parasha di Rosh Hashanah o di Shabbat che sia dopo leggiamo sempre quello che si chiama la Haftarah che è una porzione presa dai profeti che si legge dopo la Torah la Haftarah che noi leggiamo di Rosh Hashanah parla una Haftarah molto importante parla di Hanna Hanna che lei era una donna che non riusciva ad avere figli e pregava tantissimo per avere figli lei un giorno entra nel santuario e comincia a pregare con tanto fervore con tanta emozione e c'è scritto che lei muoveva le labbra ma la sua voce non si sentiva e lì a Cohen ed il Cohen che si trovava nel santuario vedeva questa donna che si muoveva e muoveva le labbra ma non usciva nessuna parola lui pensava da come si muoveva e si atteggiava pensava che lei fosse ubriaca e allora dice allora dice fino a quando vuoi ubriacarti le dice io non sto io non mi sono ubriacata io sto pregando con tutta me stessa a dio che mi benedica di avere un figlio chi nasce da quella preghiera il profeta Samuele questa donna è riuscita ecco appunto questa donna è riuscita a con le sue preghiere ad avere finalmente un figlio a nave adesso una cosa interessante le varie regole inerenti la preghiera la maggior parte delle regole della preghiera i maestri le hanno imparate da Hannah da questa donna per esempio il fatto che lei muoveva le labbra e non si sentiva la sua voce i maestri dicono quando si prega specialmente la amida non devi pregare alta voce la preghiera è una cosa intima tra te e dio se c'è qualcun altro non devi alzare la voce magari dare fastidio agli altri che è una cosa molto intima del cuore devi dire le parole ma soltanto in modo che tu senti anche perché dire muore le labbra e non sentire le parole anche non va bene o leggere con gli occhi anche non va bene bisogna sforzarci a pronunciare le parole questa per esempio è una cosa che noi impariamo da lei ma ci sono diverse cose ma si dicono che noi impariamo da Hannah la domanda ovvia che viene fuori è se le preghiere le hanno istituite abramo isacco e giacobbe shakrit michai arvit perché allora i maestri non imparano da come loro pregavano per dirci le regole perché imparano Hannah che viene molto dopo i patriarchi qualcuno ha un microfono acceso cortesemente guardate e spegnetelo mi si immagina mi sembra allora cosa succede noi impariamo da proprio da Hannah e non dagli altri patriarchi e vedremo nell'arco della serata perché lei più degli altri patriarchi è l'esempio di cos'è una preghiera adesso un'altra domanda che noi ci poniamo è una domanda molto ovvia se una persona prega nella preghiera noi abbiamo certe parti che sono lodi a dio certe parti che sono ringraziamenti a dio e ci sono anche certe parti dove noi chiediamo a dio un qualcosa per noi guarigione sostentamento pace cose personali facciamo la preghiera abbiamo di tutto lodi ringraziamenti e anche richieste perché richiedere a dio non c'è niente di male la domanda è cosa dio non sa quello che c'è bisogno perché se dio sa tutto anzi dio meglio di te sa quello che tu necessiti perché allora formulare una preghiera se dio sa tutto non siete mai chiesti è una domanda molto logica dio sa tutto mi darà quello che voglio quello che lui sa che io ho bisogno in breve prima di andare avanti la risposta è è vero dio sa quello che tu hai bisogno ma è tuo dovere diciamo chiedere a dio anche per esempio ci sono certe cose tante volte mi hanno spiegato questo concetto che dio ci dà una determinata benedizione ma questa benedizione è soltanto in cielo per esempio la rossa shana no la rossa shana dio decide abbiamo detto una persona quest'anno quanto guadagna quanti soldi guadagna per esempio se sarà sano meno sano e così via allora non è che io dico ah beh allora io non vado a lavorare tanto dio ha già deciso quanto guadagnerò mi manderai soldi io ogni giorno non vado a pregare dio mandami sostentamento tanto dio ha già deciso no non è così dio ha deciso dio prepara qualcosa in cielo per te ognuno di noi a a rossa shana ha come una valigia quello che vogliamo un qualcosa pieno di benedizioni in cielo però noi ogni giorno dobbiamo trascinare giù queste preghi queste benedizioni che giù ha fatto per noi le dobbiamo portare giù in questo mondo fisico perciò se dio ha deciso che una persona debba guadagnare x quest'anno non basta perché se dio decide ma io non faccio niente per ricevere quei soldi questi soldi non mi arrivano che sia chiaro dio predispone ma tu umano devi prendere questa benedizione portarla giù in un mondo nel mondo fisico che diventi veramente realtà perciò la preghiera quotidiana insieme con l'impegno quotidiano ognuno col suo mestiere lavoro quello che sia fa sì che quei soldi spirituali che si trovano in cielo che diventano veramente non vogliamo soldi in cielo non vogliamo soldi in incontri in banca perciò questi soldi devono diventare soldi non spirito come si fa a trascinare giù questa benedizione che diventi realtà tramite la preghiera quotidiana dio ricordati di mandarmi il sostentamento in più vado anche a fare qualcosa qualsiasi lavoro qualsiasi mestiere sia vado a fare qualcosa per poter guadagnare quei soldi perciò dio sicuramente sa ma dio ha bisogno che noi nell'arco dell'anno nell'arco dei giorni facciamo ogni giorno un qualcosa per portare giù questa benedizione che non rimanga soltanto a livello spirituale ma che scende giù nel mondo fisico gina qui con noi ci sente allora spengo io un attimo perché mi dà fastidio all'orecchio dove che era qua chat no sono buone intanto vuoi chiedere qualcosa ha spento ok benissimo ok detto ciò abbiamo abbiamo due forme di preghiera abbiamo tefila e abbiamo berahà cosa è la differenza tra berahà e tefila quello che abbiamo appena spiegato si chiama berahà che dio ha una benedizione per noi su in cielo che noi lo dobbiamo far diventare materiale perciò ogni giorno portiamo giù questo flusso questa luce diminuzione su di noi questo si chiama berahà ma c'è un livello più alto di questo che si chiama tefila la tefila vuol dire la preghiera quotidiana tefila che cos'è viene innanzitutto dalla parola filalti vuol dire immaginazione tefila vuol dire che io chiedo a dio un qualcosa che in realtà dio non non ha stabilito in cielo tutte le altre cose che diciamo che dio ha preparato in cielo noi dobbiamo sottoportare giù una cosa che dio vuole darci a volte una persona riesce a fare in modo addirittura che riesce a chiedere qualcosa con tanto fervore a dio che anche se questa cosa non era prestabilita nei pensieri di dio noi con la tefila possiamo addirittura creare una situazione che dio ci dia un qualcosa anche se non l'aveva prestabilito questa è una cosa molto potente che i maestri ci insegnano che noi abbiamo la forza non soltanto di prendere quello che dio ha preparato ma tu puoi inventare qualcosa puoi far sì che dio possa aggiungere convincere dio ad aggiungere una cosa che lui non aveva pensato di darti ma che tu sei riuscito a creare questa situazione di inventare un qualcosa non prestabilito cosa ne dite? Samuele cosa dici di questo? mi sorprende molto perché se dio ha prestabilito tutto io non posso andare oltre la volontà di dio invece sì, vedi che invece sì Rosh Hashanah ti insegna ma ogni giorno, non solo Rosh Hashanah che anche una cosa che dio non ha prestabilito tu riesci a invogliare dio a creare un qualcosa di nuovo anche se Rosh Hashanah non l'ha pensato magari due o tre mesi dopo in mezzo all'anno tu puoi convincere dio a creare io come faccio a sapere che cosa ha deciso di ridare? ovviamente tu non lo sai magari tra le cose che dico io c'è già magari no se quel magari no nel caso che tu desideri tanto una cosa, una cosa buona ovviamente è una cosa che non è nociva per te, è una cosa che ti farà bene se tu la chiedi tanto tu ovviamente non sai cosa c'è e cosa non c'è ma addirittura la chiedi così tanto e in realtà è buono per te dio può fare in modo di creare un qualcosa di nuovo tefilà è più potente di berakha vuol dire riesco addirittura a creare un qualcosa ex novo abbiamo detto che tefilà viene la parola immaginazione fillalti in ebraico cosa vuol dire? quando io prego come dice il Balatania l'autore del Tania dice quando guardi il prossimo non devi guardarlo con il tuo modo di vedere non devi guardare il modo esteriore quando guardi il prossimo devi guardarlo con l'ottica di Dio tu magari vedi una persona che fa un qualcosa di brutto un qualcosa di sbagliato e lo giudichi in un modo negativo dicono i maestri alt tu non lo sai i tuoi occhi non possono vedere al di là di quello che vedi materialmente dietro le scene dietro le quinte cosa ne sai? magari questa persona in realtà ha fatto un qualcosa perché la situazione lo porta perciò giudicare una persona a parte la parte che non dobbiamo mai giudicare perché soltanto Dio giudica il Balatania dice quando guardi il prossimo non guardarlo con i tuoi occhi limitati con i tuoi occhi giudicanti guardalo con gli occhi come Dio lo guarda guarda a te stesso non come tu ti senti guarda a te stesso come Dio ti guarda e questa è un'ottica tutta diversa perché? molte volte noi guardiamo lascia stare il prossimo noi stessi noi guardiamo noi stessi in un modo declassante in un modo che ci sentiamo ci denigriamo diciamo io non valgo niente io ho sbagliato io sono un peccatore io qua ci facciamo tutta una cantilena di quanto siamo negativi io chiedo a voi secondo voi Dio quando guarda giù in basso l'umanità vede quello che noi vediamo? ovviamente no Dio riesce a vedere al di là della mera azione Dio vede tutto vede l'anima la persona vede i problemi della persona vede la circostanza difficile della persona molte volte una persona reagisce in un modo negativo perché la situazione lo porta a fare non possiamo mai sapere una persona che una persona che va a rubare magari lo fa perché veramente in casa non c'ha soldi non c'ha cibo e ha bambini da sfamare e anziché andare a chiedere soldi in aiuto a questa successione o a quell'altra piuttosto va a rubare certo rubare è sbagliato non diciamo di no ma vai a vedere perché questa persona faccio un esempio perché va a rubare forse si vergogna di non chiedere aiuto però ha dei bambini da sfamare perché una persona è violenta perché una persona è irrascibile magari ha avuto poverini in un'infanzia difficile e non si è mai ripreso ci sono migliaia di motivazioni del comportamento negativo di una persona che noi umani non possiamo mai capire ma neanche la persona stessa con se stesso a volte riesce a capire perché mi comporto così invece Dio che conosce non soltanto vede esteriormente ma conosce ognuno di noi nel più intimo nel più profondo ci conosce ci ha fatti Lui Lui conosce i nostri pregi i nostri difetti le nostre mancanze difficoltà tutto capisce ma cioè quando Dio ci guarda sentiamoci bene con questa frase Dio non si limita a giudicare quello che hai fatto e dice ah tu sei così Dio capisce che quando tu hai sbagliato o addirittura hai peccato in realtà avevi forse delle motivazioni che ti hanno portato magari sbagliate sicuramente perché se hai peccato hai sbagliato però Dio riesce a vedere al di là dell'azione finale perciò il giudizio di Dio che diciamo che Rosh Hashanah Dio ci giudica Dio giudica il quadro completo della nostra esistenza perciò quando arriviamo a Rosh Hashanah non dobbiamo tremare di paura perché abbiamo tante cose da farci perdonare al contrario dobbiamo essere diciamo sereni perché perché siamo davanti al giudice che vede veramente la mia storia come quello che dice oggi c'è un giudizio ma non ho paura perché perché il giudice è il mio papà Dio è il nostro padre Dio ci conosce allora un padre farà di tutto per concedere un giudizio positivo al suo figlio perché capisce perché lo ama in primis e capisce le difficoltà del figlio perciò tornando a noi quando noi preghiamo noi dobbiamo immaginare perché tefilà preghiera vuol dire immaginare dobbiamo immaginare noi stessi nel modo come Dio ci guarda e non come noi guardiamo noi stessi e Dio ovviamente ha una visione totalmente diversa da quella che noi abbiamo infatti molte volte durante la preghiera di Rosh Hashanah abbiamo dei momenti che noi cantiamo canzoni di gioia chiediamo scusa a Dio ma lo chiediamo cantando allora una volta hanno chiesto a un Hazan a un cantore ma come mai proprio quando parli di peccati anziché fare un tono magari piangente non so se se farditi se l'avete mai sentito è gioioso ma come stiamo dicendo abbiamo peccato davanti a te per favore abbi pietà ma come hai peccato e lo canti piangi non fai cantare abbiamo peccato davanti a te e questa è la domanda che hanno posto a quel cantore e lui dice così dice quando dice abbiate in mente un re un re c'è un palazzo e c'è tanti lavoratori c'è il cuoco c'è quello il giardiniere c'è quello che pulisce ognuno ha una mansione dice io mi vedo come il uomo delle pulizie del palazzo reale tutti siamo contenti di avere il merito di essere qui nel palazzo reale e fare qualcosa per il re ripeto il giardiniere il cuoco l'uomo delle pulizie tutti siamo qua per per il re per fare qualcosa per il suo palazzo che sia perfetto dice io che sono l'uomo delle pulizie sono contento che sto pulendo il palazzo reale e io faccio parte del palazzo reale la nostra anima a Rosh Hashanah la stiamo ripulendo ricordiamoci Rosh Hashanah che è anno nuovo noi abbiamo la possibilità di prendere una nuova strada di ripulire totalmente quello che finora abbiamo fatto e siamo stati e dire io non sono più questo intraprendo una strada nuova perciò sono sono felice che sto pulendo il palazzo di Hashem e perciò canto perciò pregare non è in realtà chiedere a Dio quello che io ho bisogno bensì pregare per ciò che Hashem desidera questo è il punto che volevo portare fuori questo è il punto chiave di tutta la lezione Hannah infatti noi impariamo da lei e non dai patriarchi quando lei voleva un bambino e piangeva e pregava che voleva avere un figlio perché voleva un figlio? ogni donna al mondo vuole avere un figlio perché è natura che una donna voglia avere un figlio ma in realtà poi ogni donna quando ha un figlio lo vuole avere per giocare con lui per dare amore a lui giocarci crescerlo vedere i suoi successi e così via Hannah lei non voleva un figlio come tutte le altre donne al mondo lei voleva un figlio per poterlo dedicare al servizio divino infatti è successo quando lui è nato dopo che l'ha svezzato l'ha finito di allattarlo Samuele era era tutto il tempo nel santuario era dedicato a Dio allora si dice ma come tutta la vita ha pregato per avere un figlio e stare lontano che lui sia tutto il tempo nel santuario sì questa era la differenza tra Hannah e tutte le altre preghiere per questo è che noi impariamo da lei perché lei non ha pregato fate attenzione a questo punto lei non ha pregato per qualcosa per ricevere qualcosa noi abbiamo detto noi ogni giorno preghiamo e chiediamo anche delle richieste ma quando arriva Shabbat festivi Roshanah se fate caso nella preghiera noi non chiediamo niente di privato infatti l'amidah del Shabbat è più corta dell'amidah di tutti i giorni perché tutti i giorni chiediamo richieste personali Shabbat non possiamo perché Shabbat siamo al di sopra nei giorni festivi non chiediamo cose personali perciò Hannah lei desiderava un figlio per poterlo dare tutta la vita a essere a servizio di Hashem è come quello che dice non chiedere a Dio cosa può darti per te piuttosto chiedi a Dio Dio cosa posso fare io per te questo modo di vedere che adesso andremo a elaborare questo modo di vedere la preghiera di Hannah è rivoluzionaria noi sempre abbiamo in mente le lodi le preghiere tutto quanto ma ti prego Dio dammi questo ti prego Dio aiutami in questo che ci può anche stare ma Hannah ci insegna non pregare sempre soltanto per te stesso prega per Dio prega per la sua felicità prega affinché tu possa essere il veicolo o lo strumento per poter portare felicità a Dio e non a te stesso chi prega in questi termini nessuno ma anche io stesso prima di aver studiato questo concetto in questi termini non sapevo che fosse così ma cioè è lecito è normale che una persona preghi per se stesso per il mondo per la famiglia e ci sta e bisogna farlo non bisogna esimersi da pregare per il bene ma quando noi preghiamo con quest'ottica che diciamo che la preghiera vuol dire trascendere il proprio ego lascia stare te stesso mettiti da parte un attimo pensa a unirti alla volontà di Dio allora la preghiera acquisisce una dimensione totalmente diversa da quella che noi siamo abituati perciò preghiera vuol dire trascendere da te stesso dai tuoi pensieri e chiedi di essere quello che Hashem vuole che tu sia quando dicevamo prima tefilà viene la parola immaginazione noi dobbiamo immaginare cosa Dio vuole che io sia quando Dio mi ha creato mi ha messo in questo mondo cosa desiderava da me ognuno in questo mondo ha uno scopo ha un motivo di essere non è che siamo qui 7,8,9 miliardi quello che è così per fare numero ogni singolo umano ebrei e non ebrei non fa differenza tutti abbiamo una missione abbiamo un compito ma se noi dobbiamo immaginare Dio cosa che pretende da me cosa vuole da me cosa io devo essere per fare felice Dio questo che te fila è immaginazione noi non sappiamo esattamente ognuno di noi cos'è la sua stretta missione sì largamente sappiamo la nostra missione è servire Dio pregare fare il bene certo ma ognuno di noi ha una missione specifica perciò quando noi preghiamo dobbiamo cercare di capire qual è la mia missione qual è la cosa che Dio veramente intensamente desidera da me perciò quando noi preghiamo dobbiamo cercare di capire di pregare a Dio dicendogli Dio io non so esattamente tu cosa vuoi da me dammi per favore gli strumenti adatti per mettere in pratica quello che tu vuoi da me mettimi in condizioni di renderti felice chi pensa in questo modo è una cosa rivoluzionaria Hannah quando voleva un figlio lo voleva per dedicarlo a Dio non per tenerlo in casa a giocare a giocare con lui Hannah in primo luogo aveva Dio e non se stessa a Rosh Hashanah la cosa importante che noi dobbiamo acquisire è bitul annullare la nostra volontà infatti non stiamo tutto il giorno a fare quello che noi vogliamo ma ci annulliamo e leggiamo i salmi perché è una cosa che piace a Dio perciò noi chiediamo a Dio dacci quello che ho bisogno per te di ciò che Dio vuole ovvero tu ognuno deve capire che siamo degli emissari di Dio in questo mondo siamo ambasciatori di Dio per portare la sua luce in questo mondo Rosh Hashanah ci insegna non essere ancorato sempre soltanto a chiedere cosa tu hai bisogno non è un peccato ma questo che stiamo studiando stasera è un modo un livello molto più vasto più profondo di come approcciare con Dio se Dio diventa il tuo e se tu vai da Dio sempre con la lista della spesa dammi questo dammi quello dammi 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 allora tu pensi solo te stesso se tu invece vai da Dio e dici Dio tu sei meglio di me quello che è bene per me tu sei meglio di me dove io posso arrivare io non lo so dammi tu quello che tu sai che è bene per me non sto lì a elencare fammi diventare quello che tu vuoi che io sia quell'anello della catena che faccia esattamente il suo scopo nel mondo questa è la vera preghiera che dobbiamo fare a Rosh Hashanah la famosa storia che forse una volta vi ho raccontato la ripetiamo sapete in Israele in America ci sono questi grandi rabbini no che le persone vanno a chiedere consigli di benedizione e quando dove è andata in casa loro nei giorni prestabiliti c'è sempre una fila di una marea di persone che aspettano il turno per poter arrivare da rabbino e chiedere un consiglio una domanda una benedizione quello che sia ci troviamo a casa di uno di questi rabbini in Israele tante persone che sono sedute che aspettano il proprio turno a un certo punto entra una persona non fa la fila va direttamente nell'ufficio del rabbino bussa apre entra tutti rimangono svalorditi ma come noi siamo qua ore e ore aspettare arriva questo qui salta la fila entra dentro come se fosse in casa propria allora la gente un po' cominciava un po' a sentirsi un po' a disagio un po' infastidita io aspetto tu vai avanti cosa succede quando esce e va via hanno scoperto forse il segretario è venuto e ha raccontato che quella persona chi era era il medico del rabbino lui era venuto come ogni mese ogni settimana quello che era il suo ciclo era venuto a fare il suo lavoro oggi era il giorno che lui doveva andare a visitare il rabbino pressione quello che sia era il suo giorno aveva un appuntamento perciò lui non ha fatto la fila lui è entrato dentro perché è venuto per curare il rabbino ma io vi chiedo secondo voi quando il dottore era dentro del rabbino non gli ha chiesto una domanda non gli ha chiesto una benedizione è certo che sì sono qui sono venuto a fare il mio lavoro già che sono qui chiedo quello che devo chiedere nessuno va a dire ok ho finito il mio lavoro adesso vado in fila per tornare dentro non ha senso già che sono qui chiedo mi sembra più che normale ma non è fare i furbi è ovvio sono qui mentre chiudo la porta chiedo faccio quello che devo fare con rabbino ecco questo è esattamente quello che la questa lezione ci vuole insegnare se tu vai lì fate attenzione per arrivare in camera del rabbino e chiedere la lista della spesa dammi questo aiutami a quest'altro questo problema tu stai andando lì per chi? per te stesso se tu invece vai come nel caso del medico vai lì non per te vai lì per il dottore per curare lui è ovvio che salti la fila lui ci sta aspettando vai lì per lui e mentre sei lì ovviamente chiedi e ricevi immediatamente senza fare la fila questo stesso questo concetto vale nei confronti di Dio se io vado davanti a Dio sempre soltanto per piangere e lamentarmi e chiedere e questo e quest'altro ci sono 9 miliardi di persone che lo fanno aspetta il tuo turno ok ti ho sentito vediamo ogni cosa prende il suo tempo ma se io vado davanti a Dio con l'intenzione di fare gloria a Lui piacere a Lui e allora è ovvio che come il medico salti il turno vai avanti perché ti stai preoccupando di Dio noi non siamo abituati a preoccuparci della gioia di Dio noi siamo preoccupati a preoccuparci della nostra gioia che Dio mi deve dare ma anche Dio vuole ricevere qualcosa da noi e questo è tutto il succo se noi ci abituiamo a pregare per il mondo per Dio Dio io ho una fetta del mondo che io sono responsabile aiutami a mantenere la mia fetta del mondo decorosa aiutami a portare luce aiutami a renderti felice Dio voglio renderti felice mi hai messo al mondo non mi interessa avere una casa perfetta piena di ore argenti la macchina ultimo modello il cellulare non mi interessa se mi darai vuol dire che sarà il modo come io dovrò servirti attenzione non sto dicendo che dobbiamo andare in giro con le scarpe bucate e morire di fame non sto dicendo questo ma l'ottica di come intraprendere un rapporto con Dio deve cominciare un po' a essere diversa dal classico modo quando noi ci abituiamo a vivere per lui lui ci dà tutto lui ci dà anche di più magari quello che noi desideriamo perché perché quando tu vai per lui allora lui ci dà tutti gli strumenti giusti per arrivare a come tu veramente devi essere come lui vuole che tu sia il famoso immaginare noi dobbiamo cercare di immaginarci quello che Dio vuole di noi non sappiamo esattamente ma chiediamo a Dio di darci quello che abbiamo bisogno per lui ma poi ovviamente anche noi ne godiamo come il dottore che già che lì chiede prima di andare avanti vorrei sentire cosa dite Vittorio cosa dici tu questa lezione mi ha aperto una prospettiva totalmente nuova diversa non avevo mai pensato riflettuto e quindi sentirla oggi quando stiamo entrando a Rosa Sanà e poi a Kippur apre apre una prospettiva nuova di preghiera di meditazione con una forza veramente svoltevole ecco grazie ok Samuele cosa dici? un po' come dire ama te stesso ama il prossimo come te stesso nel senso ama Dio e Dio e Dio ti dà quello che vuole darti e quello che bisogna darti un po' di più ama Dio e preoccupati di lui cioè quando si dice ama il prossimo come te stesso devi amare gli altri devi amare giustamente Dio devi fare in modo di prima di pensare a te stesso egoisticamente di pensare agli altri di pensare a Dio o no? si 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 assolutamente Roberto Rotas adesso ci spara qualche bomba cabalistica beh l'esempio che hai fatto è bellissimo veramente bello non c'è non c'è bomba cabalistica secondo me è uno degli esempi più belli che potete fare per spiegare quello che il Tania spiega in 12 mesi è veramente molto bello come metà tu ne hai sempre fatte molto belle mi sono sempre appassionato come quella famosa dell'ascensore di arrivare sul che il re dice di arrivare in mezz'ora che solamente 1, 2, 3 ci credono poi alla fine uno arriva al settantesimo piano questa qui del medico la trovo una delle tue più belle come quella anche dei facoceri che se uno è ebreo è come fosse un leone e se no non può pensare di essere un facocero che il leone rimane leone anche se mantiene la tua identità si alcia due occhi due orecchie e una bocca però in realtà è un facocero e il leone è un leone quindi quando sento qualche coreligionario che purtroppo dice che non so vuole diventare cattolico sorrido perché è come se un bue volesse diventare una gallina cioè è impossibile non è impossibile perché l'esteriorità è una cosa ma l'anima è un'altra comunque no veramente non ho nulla da aggiungere perché l'esempio è perfetto è Hazak Baruch ti schiede mi trovo ok qualcuno altro vuole aggiungere o chiedere qualcosa che non è chiaro buonasera Rav io avevo alzato la mano sì eccolo sì chiedo scusa se sono oscurato perché sto vedendo i ragazzi dalla pallavolo quindi sono in giro stasera Rav come tutte le sere ma in modo particolare stasera ha catturato l'attenzione della mia anima bellissimo veramente bello è venuto in mente quello che lei ha detto è bellissimo veramente bello mi è venuto in mente quella storia là del re quando tutti chiedono l'oro tutti chiedono qualcosa di bene arriva quello lì e chiede io voglio stare un'ora con te prego Rav prego la racconto grazie la storia che è l'unico molto azzeccata è un aneddoto ovviamente c'è questo re che dice domani mio compleanno tutti voi tutto il paese domani potrà venire da me a chiedere quello che voglio quello che volete domani mio compleanno io vi darò quello che volete arriva uno chiede oro l'altro chiede argento l'altro chiede soldi l'altro chiede terreno ognuno chiede qualcosa di materiale e il re dà arriva un semplice il contadino un semplice persona dice re io vorrei chiederti una cosa se posso ogni giorno un'ora venire al tuo cospetto e stare con te bere un tè chiacchierare stare vicino a te il re chiede e poi niente mi basta questo ci aspettavo una richiesta del materiale quando ha sentito che lui voleva soltanto stare con il re passare un'ora con lui è andato in estasi dice tutti gli altri sono venuti da me a chiedere per loro soldi lui è venuto a chiedere per me vuole me non vuole i miei soldi e allora lui dice grazie a Gigi lui dice ai suoi ai ministri scrivete agli atti che lui potrà venire ogni giorno a quest'ora entrare nella mia stanza privata e in più dateli questo questo e quest'altro alla fine Dio l'ha premiato dando a lui oro argento anche se non aveva chiesto ma perché ha visto che lui è qua per il re e non per se stesso esattamente questo che stiamo parlando stasera dobbiamo imparare a cominciare a vivere più per Dio che per noi stessi che poi che poi comunque ci torna qualcosa perché Dio non ci lascia a piedi perciò quando tu prendi qualcosa per Dio è ovvio che usufruisci anche tu alla fine le benedizioni che Dio ti dà valgono anche per te come il dottore quando è lì chiede e riceve subito concludendo abbiamo chiesto come mai noi impariamo da Hanna e non dai patriarchi allora per concludere la risposta su di lei che lei ha chiesto appunto qualcosa per Dio lei ha detto dammi un figlio non soltanto un figlio dammi un figlio che sia tzaddik che sia un pio perché io lo voglio regalare a te voglio che lui serva a te cosa succede? questa è una preghiera non convenzionale perché? voi che studiate il Tania non so se siete arrivati già il Tania dice anche in altri posti viene riportato che Dio decide tutto di una persona prima che nasce se è alto o se è basso di statura se hai capelli biondi neri castane di occhi tutto quello che riguarda il fisico Dio lo stabilisce quando la persona nasce una cosa Dio non stabilisce cos'è? se lui sarà un tzaddik o un rasha se sarà un pio o se sarà un delinquente questo Dio non lo decide questo lascia il famoso libero arbitrio alla persona di scegliere cosa vorrà essere lui nella sua vita perciò neanche Dio prestabilisce chi sarà che cosa io ti do l'anima e tu fai quello che pensi Canna perché ho detto che lei ha fatto una preghiera non convenzionale perché lei ha detto voglio un figlio ma ha sottolineato che deve essere un tzaddik ma un attimo abbiamo appena detto che Dio non decide se sarà un tzaddik o un rasha lei fa a me non mi interessa io questo figlio non lo voglio per me io lo voglio per te e se è per te io ti chiedo che sia un tzaddik vuol dire ha chiesto un qualcosa che di norma non si chiede perché Dio non decide la spiritualità della persona è la persona che lo decide perciò lei ha avuto diciamo era una donna ha avuto la schiettezza il coraggio di chiedere un qualcosa che di norma non avrebbe senso cioè che sia un tzaddik perché lei trascendeva da qualsiasi piacere materiale di avere un bebè e la leggiamo questa storia proprio a Rosh Hashanah perché è il giorno che noi incoroniamo Hashem come re tra tutte le varie cose di Rosh Hashanah è il giorno dove noi mettiamo la corona su Dio e diciamo Dio da parte nostra noi desideriamo che tu sia ancora per un anno il nostro re per favore continua a regnare su di noi perché noi quando sogniamo lo shofar stiamo chiedendo a Dio stiamo cercando di accendere il suo desiderio di continuare a essere il nostro re perciò di nuovo chiediamo a lui chiediamo per lui e noi siamo in realtà nulla davanti a Dio e se diventi nulla diventi tutt'uno con lui noi pensiamo che diventare nulla annullare il nostro desiderio vuol dire che ah non vali niente no annullare i tuoi desideri vuol dire diventare tutt'uno con Dio perché se tu hai i tuoi desideri materiali non potrai mai essere tutt'uno con Dio perché Dio non è limitato ai desideri materiali Dio non ha desideri materiali se tu vuoi essere un canale un condotto di Dio devi essere parte di lui devi annullarti alla sua volontà non chiedo io voglio io ho bisogno io perciò quando diventi un canale della sua volontà in questo mondo come puoi farlo lo puoi fare solo se la tua volontà è la stessa della sua volontà cosa dicono i perché a volte le massime dei padri fai la tua volontà come se fosse la sua in modo che lui farà la tua volontà come se fosse la sua se tu vivi per lui per far ciò che lui desidera stai tranquillo che anche tu ricevi lo stesso servizio anche lui farà quello che tu vuoi ma non è che noi è diverso da andare davanti a Dio come dicevo prima con la lista della spesa noi andiamo e diciamo Dio sono qua per te mi hai messo al mondo tu voglio essere un tuo servitore fedele dammi quello che ho bisogno dimmi dove devo andare e io lo faccio questo è il errore di la scena penso di aver finito ho trovato un paragone tecnico basta chiunque di noi che guida l'automobile sa cos'è se guida con un'automobile specialmente con le marce cos'è primo secondo terzo quarto retromarcia cosa succede dal punto di vista puramente tecnico ci sono dei dischi con degli ingranaggi che ruotano a velocità diverse quando tu metti la prima hai dei dischi lentati che si incastrano con la velocità tra il primo disco e il secondo disco e entra la prima tant'è vero che quando uno poi sbaglia a mettere la marcia si sente a volte grattare che grattata che hai fatto quando noi giriamo la nostra rotella alla stessa velocità della rotella di Hashem abbiamo la sincronizzazione cioè quando come lui fa con noi ci dà da mangiare da bere da respirare e lo facciamo anche noi dando sedaca aiutando il prossimo eccetera facciamo esattamente la stessa cosa e quindi siamo in sincronia in sintonia anche una radio in sintonia fa la stessa cosa sono dei condensatori elettrolittici e anche poi gli esseri che si sintonizzano con la stessa frequenza dell'emittente e così si ha l'aggancio col canale che trasmette e quando noi quando agganciamo il canale che cos'è esattamente la sintonia perché si sintonizzare perché ve lo dico da tecnico elettronico la sintonia è proprio questa tu giri la frequenza del condensatore della radio fino a che si aggancia la frequenza del trasmettitore che si può trovare su una montagna vicino a Milano o sull'antenna della RAI in corso estempione quando agganci quel canale lì c'è la sincronia e senti il canale e senti la radio senti la televisione eccetera e così per ogni cosa e così quando noi ci sincronizziamo con Hashem abbiamo Berakha che finisce l'anno finita e poi prima tu dicevi che si può metterlo alla prova anche al di là di quello che promette Rosh Hashanah facendo qualcosa di straordinario e questo lo dice Marachim nella Tadra di Pesach mettetemi alla prova e mettete Bassere Zedaka e io l'unico caso in cui Hashem chiede di metterlo alla prova non si può mettere la prova mai ma se tu lo metti alla prova dicendo che dai Zedaka aiuti il prossimo dai insomma come dice il Tania facendo così oltre a esserti sintonizzato ricevi anche la tua colori non sono quella via nero ecco per in poche parole farò un esempio ancora a te ma quello che dici del sincronizzarsi sì abbiamo spiegato la settimana scorsa che ogni anno a Rosh Hashanah viene una luce nuova di Hashem certo va via la luce dell'anno vecchia passato e viene una luce nuova molto più forte molto più intensa che allo Sofar vuol dire appena tramonta il sole siamo in una specie di limbo in cui non c'è più nulla che anche mi viene sempre l'ansia ogni anno perché vuol dire anche se mettiamo il miele eccetera sento una specie di ansia di morsa nello stomaco perché quello lumento lì non siamo né carne né pesce dal tramonto fino a quando c'è il primo suono dopo Nishmat che c'è arriviamo a a quel momento Hashem ha dato la luce più forte più bella secondo un punto di sincronizzare questa se arriva a Rosh Hashanah una luce nuova che darà influenza benedizione indirizzo al mondo per andare avanti cosa succede? se tu non sei sincronizzato con questa luce nuova e rimani ancora con la luce dell'anno passato rimani la persona dell'anno passato e non vai a cavallo con la nuova luce non sei sincronizzato con Dio Rosh Hashanah vuol dire vai a pari passo con l'onda segui l'onda segui l'ossia attingi da questa nuova luce affinché tu possa andare insieme con Dio e non rimanere indietro quindi non solo lista della spesa ma anche programma nuovo più mitzvot migliorarsi eccetera per andare a passo con la nuova luce perfetto a Zagbaru a tutti quanti qualcuno vuole aggiungere o chiedere qualcosa? ok allora ricordiamo a tutti giovedì mattina e venerdì mattina di recarsi al tempio a sentire il suono dello shofar e di parlare tanto con Dio o tramite le preghiere o ognuno con il modo suo come chi non sa pregare può parlare a modo suo con Dio esprimere la sua vicinanza a Dio e chiedere che quest'anno veramente sia un anno meraviglioso anche per se stesso ma di darci la forza di poter rendere Hashem felice e Hashem è felice se tutti i suoi figli sono presenti ricordiamoci nelle preghiere di pregare per quelli che sono ancora ostaggi speriamo che per oscionarsi in modo miracoloso tornino a casa ognuno con le sue famiglie ma ricordiamo non dimentichiamoci mai di Dio di pregare che la fine che la fine del male possa arrivare la fine del male è il bene assoluto e speriamo che tutti loro possano veramente tornare a casa sani e salvi e iscriviti al nostro corso